e questa è la piccola marge con le lenticci guardate quanto sono durabili e tu che vuoi aspetta tu tu già hai trovato famiglia devi solo andare Bart pure cerca quello scuro quello in posa il fotomodello marge prendiamo i giochini lanciala di lato di là di là non me ne può proprio interessare che cosa stanno mangiando questi qui zio Biagio intervieni amore ciao quanto sei bella ma questa è la nostra questa busta con delle croppette penso di sì ma glielo devi togliere perché c'è ancora la marge marge vuoi biscottino? è il biscottino o è il pezzo di plastica? io non riesco a capire allora tu ma questo è il bastone della vecchiaia chi è questo? ma questa è Bart appoggiata il sedello il sedello bello questo basta marge mia mi stai perseguitando vieni dove va? marge è distratta dai capelli è distratta dai capelli è distratta dai capelli è distratta da quello che c'è nella busta è fatto basta marge